salve a tutti amici di marcosbox e benvenuti in questo nuovo video nel canale di marco e antonio adesso andremo a fare una partita a come si chiama questo gioco? rocket ball giocherà antonio pio perché io sono leggermente imbranato con questi giochi pensate che ho provato a fare la partita con quello giocando da solo contro contro la porta praticamente perché c'era solo la porta senza avversario e non ho fatto manco un dio va bene a te la parola antonio allora iniziamo a fare una partita io ho visto che già ci ho giocato un po posso fare le partite ai growler che si mette tanto oro e visto che vincerò sempre prendevo l'oro e potevo fare queste partite ragazzi scusate per la pubblicità ma il gioco è così ricordiamo che è un gioco ancora in fase beta quasi partita subito vabbè sempre così adesso stiamo a mettere i soldi spero un po ma adesso i soldi chi vince vince mille euro cioè mille euro adesso iniziamo tu sei nella squadra? blu devi segnare la tua parte ho scherzo togliendo la palla sembra che la palla decide di collaborare allora con la palla addio già il primo gol allora ogni volta che ho fatto vedere alle persone come si gioca sto diavolo di gioco mi fanno sempre i gol non li faccio mai io oddio che diavolo è una maledizione questa beh copa anche del tuo compagno di squadra che sta andando a raccogliere una margherita per il campo non è un po' di testa no non l'ho toccata proprio ma che è rimasto in fuoco si c'è il jump e il jump però rimane anche un elicotter è un po' così lo vediamo no vediamo che sto caricando il boost per fare super speed questo colpo di testa non l'ho toccato proprio non l'ho colpita di testa intanto sta ancora il mio compagno e vola ma che stai facendo qui? forse si sarà disconnesso la partita come ci hanno fatto il gol spesso lo fanno si e poi per chi conosce più termini si c'è cittare dalla partita ah il re avrà cittato o come diciamo noi di dota avrà il re cittato si è incazzito come... quello vuol dire cittato che uno si arrabbia no 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 non potevo fare niente questa che l'hai passata tu no? tu io ma l'est no questo gioco ti ha volto lo so e poi sono le macchie spider perché vanno sui muri entro pure nelle porte si è sempre c'è qualcosa che non cosa questo gioco cosa? cioè stai combinando a contattare no dopo prendo la rivincita dopo la rivincita me la prendo a me non coi godo la bandierina passaggio cittante di testa mi sto giocando a calcio però nel stesso video farò vedere anche calcio perché ce l'ho anche calcio vabbè però non sia meno che ti ci dico a calcio c'è una parola che ti dico si che vuole non ci sono le persone non ci sono le persone che sono massi no a me non collo è super tu ti dico dell'arte 1, 2, 3, qualche cosa tu nel frattempo sei pure un diverso eh no che buono forse con il boost va così tanto veloce non si blocca mamma mia sei appena lì connesso l'avrà avuto qualche cosa e l'ha fatto con un superfetto ho visto come mi fa un po' oh salita salita muoviglio oggi abbiamo deciso di fare un video abbastanza lungo a che mostriamo tre giochi e poi nei prossimi mostriamo altre cose intanto vi lasciamo il link in descrizione di questi tre giochi e vi mostriamo così potete giocarci anche voi e provarlo no 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 salva 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 oddio uffa no vi dicevo io scherzo no 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 non incominciare pure nei video non farmelo fare anche nei video ah contenti però ragazzi noi due siamo rivali nel calcio è che uno ti fa juve io ti fa inter E' un peccato, io non riesco a convincerelo di diventare un interista. Beh, la sofferenza è più essere chiamata Rubentus nei vecchi anni. Non abbiamo comprato niente, abbiamo tutti i suoi figli, abbiamo comprato tutto. E non ti deve nemmeno comprare. Non so che partire. Stanno due contro di me, non posso fare niente qua. Beh, sì, in effetti. Non vale, sta quella che si è scappato subito. Ma è morto completamente, non deve essere lì. Non vedo manco più. Ah no, sta andando. Paracomparso. Ragazzi, votate se volete qualche live o se non la volete. Vabbè, mi raccomando. E lasciate anche il mi piace, iscrivetevi. Ma posso farlo vedere? Questo gioco sfida tutta la fisica. Allora, adesso vi farò un altro gioco. Adesso vi farò vedere Dream League 17. Che adesso gioco non ci gioco da tanto tempo. Ho già una squadra tutta formata e da gennaio che l'ho scaricato, gennaio del 2017. Questi dovrebbero essere i due giocatori. Questa è la mia squadra. Sta abbastanza messa la mano. L'ultima volta ho venduto un sacco di giocatori per comprarmi Messi, ma non ce l'ho fatta nemmeno. Ho venduto Suarez e Medel. Ma facciamo una partita. Inter è naturalmente la squadra. Purtroppo. È vinto. Parci un po' di questo gioco come funziona. Adesso stai giocando con il computer, giusto? No, sto giocando con le persone. No, contro il computer. Ok, contro l'intelligenza artificiale. Passaggio filtri. Ma se vedi che sto leggermente arrugito è che non ci gioco da tanto tempo. Vabbè, ma tanto è l'Inter, non è che ci aspettiamo grandi cose. Non è tutti già. Che cos'era? Cosa? Ti ha segnato. Cosa? Ha segnato. Cosa? Che gol, gol impide. Quando la palla va in porta, nella porta avversaria si chiama gol. Non lo so, però dico cosa perché c'è... No, dai, no, questo non è fallo, dai. È infatti. Non può essere fallo. Dovete sapere che lui è un campione di tec, quindi ammazza il giocatore e spacca le gambe. Come devo fare il gol del piede sul PES 2012. Ma che ti ha fatto di male quel poveretto? Un'altra ha tirato... Ha tirato un coso, ha tirato tutto in alto, tutta l'altra parte. Sto facendo il rigore a 3 tipo Madrid contro la Juve. Ha tirato... Ha sbagliato per la prima volta che riesco a fare un suo rigore. E poi è apparso pure nella partita del cuore del Piero. Purtroppo io preferivo i cantanti e dovevo tifare a lui, che stava nei cantanti. Ma uno come del Piero, dove lo trovi? Quello oramai quello fa pubblicità tipo... C'è, Catalina, questo è un fallo, vedi? Così si... Ok, si sostituisce. Pettocosta. A posto di chi? Ma li stai cambiando a caso o ma... No, come fanno un cartellino giallo di tuo alberi? Ah, ecco, ma sento a vedere il cuore. No, no, no. Perché andiamo... Tanno fanno uno schifo tutti quanti. Ne dobbiamo parlare? L'ho detto io che sono leggermente arrugginito. Adesso faccio gol con i cardi. Ma è anche colpa della pioggia, secondo me? No. A me la grandia che sto a quelle partite dove sta la grandia. Mi porta fortuna. Ma ti fanno i buchi in testa? Perché... Vabbè, so a videogiochi. Ma lo pare piuttosto... Assaggio filtrante. Nianc. In area. Ma fatti l'autore... Ecco, l'incredibile! Di Nianc. Ma è... Uno che si chiama Nianc, però me lo aspettavo cinesi. È del Milan. Sì, ma lo aspettavo i cinesi in viso, Nianc. Ma sta nel Milan, dico. Perché non è cinese. Vediamo i cos'ha. Eh... Francese. Ah, famoso Nianc. In canale lo uso sempre a fare i falli, ogni volta faccio un falconicone e esce il rosso. Perché tu stai collezionando cartellini rompi. Ultimamente sì, dopo le faccio idee, le mie statistiche. Intanto la rimonta di Cardi. È montata. No, è bene, i Cardi. L'unico gioco del Cardi. L'ho pagato 1750 euro. Sono dovuto stare tutto un po' a me i gioco a dare miei pubblicità per comprare i Cardi. Eh, fine primo tempo. No, la pubblicità. E' un po' a me i giocati, è nato. No, è... Il Congo è nostro zio. Non mi piace il poker. Manco me. Però so come si gioca e che ci gioca a Capodanno a casa di mia zia. E qua devi giocare per forza durante le feste. Poker, Teresina. Quale Teresina? E' un'altra versione di poker. Incluso. Scala 40. Scala 40. Comunque, torniamo alla partita. Oh ragazzi, sappiate se non faccio più video di Crash Royale. Perché ci siamo già stancati di quel gioco. Ti parli, eh. No, ti parli poi il tizio. Ah, ecco. Così, tranquillo, tranquillo. La presa, dice, ok. Passaggio. Ma secondo me l'intelligence artificiale... Primo giallo, o il secondo giallo. Secondo giallo. Cunning è forte nei calci di punizione. Ma che punti è se... Roli. Nello stesso ruolo, lo stesso cristiano di prima. Calci di punizione. Sosto. Che stai facendo? Costa. Costa. Ma costa, costa. Abbiamo finito le sostituzioni. Ma, mi sai sì. Ma che cavo di codica me? Ma che ho fatto? No, sono, hai messo il burdello. Non ho capito che cosa ho fatto. Perché non mi è mai successo un'immagine. Comunque, pensiamo alla partita che qua già... Già si sto a mezzo. Ma, racconta un po' i nostri lettori. I lettori, si può dire i lettori di un video? No, non si può dire. I nostri telescoltatori. I lettori Suzuka. Ehm, com'è che... È facile l'interfaccia per il gioco? Ti trovi bene? Comoda ha segnato, maledetta. Chi è assoluto? Guarda, usa il burdello? Sì, ha fatto la doppietta, questo. Hai detto. Vuoi vedere? E ancora non gli spezzi che cambia? Quello. Ancora no. Perché deve scappare sempre, non riesco mai a prendere. No, tu ho fatto il gol da centrocampo. Però no qua, su PES 2012, con il portiere del Barcellona l'ho fatto. Su PES 2012. Però, 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 quelle sono cose che ti escono una volta sulla navide. Eh, purtroppo non ho potuto nemmeno salvare le plecche, non c'è proprio lo spazio. Ecco, vedi? Non c'è nemmeno la testimonianza testimoniosa. E per fortuna ne ho salvato le plecche, quando hai perso 70-0, no? No, quando tu mi hai fatto il gol da centrocampo. Ah, beh, quello è stato proprio... Mi ha fatto un giocatore che ci avevo, ci avevo, che si chiara crescenti, ci avevo anche con questo gioco. Poi l'ho venduto. Mi so comprato i tatti. 3-3! Senti, non l'avevo manco visto, grazie a tempo. I cardi, sempre lui. Sempre lui. Ma poi tu devi capire il bianco, così, qui. Non lo so. Ma cosa fai, tu? Tra poco finisce pure la partita in pareggio, a me non avvio perso. Infatti, per ora. Sono 3 minuti, recupero. Il totto, campo, 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 già uno si chiama campo. E dove gioca? Nel campo. Nel campo di casa. Ah, sì. Che bello. No, 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 diciamo in latini. Dai, dai, che c'è un po' fai. Dai, dai, Ricky. Dove è caspira, inattirà. Martins, sai che è un giocatore sta anche nell'interno 2004? E ce l'ho qui. Io pensavo che era Ricky Martins, il cantante. Fa un tempo, qua passano i camion, non le circolari. Questa è una zona, dove sta sprecherendo la casa, sta appoggiando sulla strada. Sai che non è passata ancora nessuna autoambulanza, di solito, però... No. A partire intanto è finita 3 a 3 Adesso vi mostreremo un altro dei giochi Poi ovviamente visto che ogni volta per cambiare il gioco vi faccio vedere questa schermata Se vedete a che gioco vi volete farci un video scrivetelo nei commenti Adesso vi voglio fare delle prime a scorrere io E poi fare scorrere io Questo credo che facciamo come ultimo gioco Questo lo faremo come ultimo gioco sui video è troppo lungo Ma pure vedete anche la registrazione che intercompre Siccome abbiamo la fortuna dei principianti Adesso qua è gioco scorrino Ovviamente ho già Ah questo è quello che si passa tipo sul video Allora adesso qua è un gioco tipo sul video Io non so che cosa è sul video È un gioco di calcio da tavola Con i papazzetti che tu devi tirare Ho capito qua Mi ha spiegato il mio padre mi sembra C'erano il mio cugino C'erano che ci giocava Lui era bravo Allora ragazzi Meglio cambiare gioco solo qua Ci sclero di brutto Brutto è gioco comunque E si perché poi ci sono state entrate che torni indietro del tempo Ti capisco niente Adesso vi faremo vedere un altro gioco Uno che possiamo fare di rapida rapida Noi ci giochiamo in due Ok Allora sappiate che se non vinco è perché non so giocare No Basta solo muovere la lingua e combattere Dicono tutti così Scegli ti l'arma Ah no questo è quello che Vabbè Io prendo spiden Io prendo questo qua rosa Dai che Oh vieni mi scrivo rosa Prendi lascia Ok Sì Come si gioca non si sa Ecco Io ho già stai more Io sono quello rosa che sta facendo Ho perso Che stava perdendo anche la gamba Non lo so che cosa Non ho mai capito questo gioco Come si gioca perché Guardate che regge quitte qua Ho vinto Ho vinto Oh Stacca No Cosa Ho due armi No aiuto Sono sciopera No no non si uccide Sto per morire Sto per morire Sì Cioè sono morto Di calcio in testa Che butta morto Eh Ragazzi Il video può finire qui Perché sto abbastanza lungo Ci aggiorniamo al prossimo video Lunga vita e prosperità A tutti quanti Mi raccomando Tanti mi piace Tanti pollici in su E scrivetevi Bye bye Salve Bye bye Stop Ciao